Buonasera gentili amici, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News, subito presentare l'ospite che abbiamo in studio questa puntata, Nicola Artoni dell'ufficio stampa di Confagricoltura Mantua. Ciao Nicola, bentrovato. Ciao Andrea, grazie. Allora, parliamo in questa puntata di disoccupazione agricola per anno ovviamente 2024, insomma quali sono i modi per ottenerla? Esatto, il patronato Enapa, che è il patronato appunto di Confagricoltura che a livello nazionale ma poi declinato sui vari territori segue tutte le questioni previdenziali di questo tipo, ci ha dato le informazioni per la possibilità di fare domanda per la disoccupazione agricola. Allora, precisiamo subito che il termine ultimo per l'invio delle domande è il 2 aprile del 2024, quindi insomma chiunque fosse interessato tenga bene a mente questa data, c'è ancora tempo, però insomma è meglio affrettarsi nel caso. E chi può richiedere la disoccupazione agricola? Può richiederla chi ha prestato attività agricola come dipendente nel corso del 2023. Allora, c'è una precisazione da fare, nel senso che l'indennità spetta i lavoratori, sia italiani che stranieri naturalmente, che nel corso del 2023 abbiano prestato attività lavorativa nel settore agricolo e abbiano versato contributi per almeno 102 giornate lavorative accreditate nel bienio 22-23 o interamente nel 2023. Questi sono un po' i requisiti per poter presentare poi la domanda. Se all'interno di, appunto, nel bienio 22-23 la prevalenza del lavoro fosse non agricola, è possibile comunque chiedere la classica, diciamo, disoccupazione ordinaria NASPI, che è quella che poi chiede chi non fa parte del settore agricolo, a patto che venga presentata entro 60 giorni dalla fine dell'attività. Quali sono i documenti necessari? Allora, per quanto riguarda i lavoratori italiani, serve carta di identità, busta paga valida ovviamente nel 2023 e fotocopia del codice fiscale. Per i lavoratori extracomunitari, perché abbiamo detto prima sia italiani che stranieri possono chiedere la disoccupazione, servono fotocopia del permesso della carta di soggiorno e fotocopia del passaporto in modo da attestare la regolare permanenza all'interno del nostro paese. Io chiudo ricordando che gli uffici del patronato in APA di Confagricoltura Mantua, che sono in Viale Piave 10, sono a completa disposizione di tutti gli associati o di chiunque fosse interessato a fare domande di disoccupazione agricola per qualsiasi tipo di informazione, di consulenza, quindi in caso di dubbi chiamate o recatevi direttamente presso i nostri uffici. Assolutamente, ricordiamo, data ultima 2 aprile 2024, però insomma, siccome ci sono i documenti in ballo, sempre meglio muoversi un po' per tempo. Con la burocrazia è meglio. Esatto, con la burocrazia è meglio non ridursi proprio all'ultimo, ma prendersi un po' per tempo. Grazie a Nicola Artoni per essere stato nostro ospite, grazie a voi che ci avete seguito a casa, e appuntamento alla prossima settimana.